Ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi recensione del Nathan Never Magazine dell'anno 2015, quindi finora è l'unico uscito. Copertina di Giancarlo Olivares, molto bella, molto dettagliata, un disegno fatto molto bene. Questa ragazza qua dietro mi piace, questo disegno di questa ragazza mi piace in maniera particolare e anche l'espressione del volto di Nathan Never è molto convincente, un attesamento molto ben ricreato. E sullo sfondo abbiamo questi robot, questi reliti. Anche con la colorazione della copertina mi ha particolarmente colpito, molto bella. E anche questo color melanzana della costina, molto interessante, e anche la parte dietro, quindi la grafica di questo magazine mi è molto piaciuta. Allora, che cosa contiene questo magazine? Allora, sostituendo la colana Manaki, questi magazine, al suo interno hanno degli articoli, come ben sapete, quindi ci sono articoli riguardanti cinema, libri, musica, eccetera, eccetera, che io reputo inutili e passati. Quindi per me nel 2016 con internet, questi articoli riguardanti musica, cinema, arte, di fantascienza, sono per me superati. Sarebbe meglio, come ho già detto nella mia recensione del Dino Dog Magazine numero 2, che qui mettessero delle interviste agli autori, delle piccole atticipazioni sulla testata di cui tratta il magazine e cose riguardanti più che altro la casa editrice, o comunque riguardanti le testate prese in considerazione. Oltre questi articoli troviamo anche quattro storie, quattro storie di cui una inedita, che è Long Star, e tre invece che sono delle ristampe. Ristampe di cosa? Allora, l'ultima, che è quella che riesco a spiegarvi più semplicemente, Cologne, scusate, è una mini storia apparsa originariamente su Ken Parker Magazine numero 25 del 1995, perché all'epoca Ken Parker era stato rilanciato dalla Sarge Bonelli Editore e presentava all'interno, oltre che una storia completa di Ken Parker, anche una storia di un personaggio della Bonelli a scelta di numero in numero. Quindi nel numero 25 del 1995 su Ken Parker Magazine è apparsa una storia di Nathan Never che possiamo ritrovare qui. Invece, sia la danza delle luci blu che la sfida, non so se si vede perché la sta facendo fatica a mettere a fuoco il telefono, sono apparse invece in Nathan Never della Mondadori e in Nathan Never Fantasma Venezia della Mondadori sempre, uno del 94 e uno del 96. Che cos'erano questi Mondadori che facevano negli anni 90? Erano degli albi a colori con una storia, diciamo, di Nathan Never, grandissimi, quindi in formato albi giganti, che era tutta a colori per l'occasione e che presentava anche una storia in più. Qui ritroviamo ristampate due storie apparse su quella collane lì. Allora, la storia inedita che abbiamo, quindi Lone Star, la prima, eccolo qui, è una storia. Allora, tutte le storie su quest'albo sono a colori e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. La prima, l'inedita, è ad opera di Giovanni Gualdoni e disegni di Dante Bastianoni. Giovanni Gualdoni è uno dei migliori sceneggiatori di Dilan Dog che si siano mai esistiti, che a me piace moltissimo, però purtroppo come curatore di Dilan Dog ha fatto schifo, perché praticamente lui ha fatto perdere, non si sa, quanti acquirenti alla collana di Dilan Dog, è stato sostituito dall'attuale Roberto Recchioni ed è rifinito a scrivere storie per Nathan Never. Storie di Nathan Never che sinceramente non mi convincono più di tanto. Di cosa parla Lone Star? Lone Star praticamente si ricollega al passato di Nathan Never, quindi a quando lui era non un agente speciale alfa, ma lavorava praticamente ancora nell'esercito, quindi sotto la fanteria spaziale, quando aveva appena conosciuto quella che poi è diventata sua moglie, quindi Laura. Quindi nel periodo in cui lui diciamo ci stava provando con la moglie che lavorava con lui, che aveva fatto l'accademia con lui e andava in giro a fare le missioni per l'esercito, praticamente sotto i fanti spaziali. Allora di cosa parla? Parla di una navicella che praticamente gli viene dato nel Nathan Never di ora ad andare a trovare praticamente una navicella in un cimitero diciamo delle navicelle spaziali perché stanno succedendo dei fatti particolari, quindi Nathan Never prende e decide di andare a milioni e milioni di chilometri di distanza a risolvere l'enigma legato a questa navicella e nel risolvere questa enigma ci verrà presentato uno scorso del passato di Nathan Never dove praticamente è successa una vicenda, una lotta tra lui e un suo superiore. Quindi avremo uno scorso del passato di Nathan Never, vedremo com'era Nathan Never quando era nell'affanteria spaziale, seguiremo le vicissitudini anche di questa ragazza, quindi degli abusi, dei soprusi che sono stati compiuti quando lui era nell'affanteria e una rivalità che lui aveva con questo colonnello. Tutto ciò si intrica con una trama appunto con un mistero che sta avvenendo invece ai giorni nostri che dopo nel finale scopriremo essere correlato appunto alla sua giovinezza. Quindi una storia che per chi è interessato al passato di Nathan Never è da leggere. Sinceramente è una storia che non mi ha colpito particolarmente, mi ha abbastanza annoiato e secondo me è anche abbastanza trascurabile. I disegni di Bastianoni sono eccezionali, soprattutto per quanto riguarda i volti, quindi dei disegni molto buoni. La colorazione invece non mi è piaciuta, la colorazione l'ho trovata un po' piatta e l'ho trovata un po' malfatta. Cioè io da quest'albo non lo so, adesso che ho letto Orfani io vorrei il tipo di colorazione di Orfani dappertutto, invece su quest'albo purtroppo i colori sembrano quelli che ne so del numero 200 di Mr. No, quindi il tipo di colorazione che si usava prima dell'avvento di Orfani in Bonelli. Quindi è una storia che mi sento di bocciare, non ve la consiglio, ve la consiglio solo se siete dei fan proprio di Nathan Never fino al midollo e la volete leggere per completezza, leggetela. Quindi gli ottimi disegni, molto bravo disegnatore, si ricreano delle scene di guerra in maniera impeccabile e perfetta, però è una storia che non mi ha detto niente, è abbastanza noiosa, poi è anche un po' più corta del solito, niente di che. E dopo ci sono le tre storie, le tre riproposizioni di storie classiche, vecchie, che erano state messe in quegli alboni. Quindi abbiamo La danza delle luci blu di Michele Med e di Nicola Mari. Un Nicola Mari, come sempre, abbastanza con suo tocco particolare, con le sue immagini abbastanza claustrofobiche. E di cosa parla la prima storia? La prima storia praticamente parla di un'indagine, una tranquilla indagine di Nathan Never, all'interno di dove lui entra nel cyberspazio, un'indagine che anche questa mi ha lasciato abbastanza freddino. Praticamente è tutta quanta spiegata praticamente da dei dialoghi di Balloon, quindi una storia che ha anche poco di disegno ma tanto di sceneggiatura, una storia che non mi è piaciuta, che dovete leggerla per capirla, se a spiegarvela è particolarmente difficile. E anche questa qui non mi ha convinto. Poi c'è una seconda storia, la sfida ad opera ai testi di Vigna e disegni di Bonazzi, anche qui comincio con i disegni anche qui molto belli, molto Nathan Never della prima ora, quindi abbiamo una Ryzer ancora, non abbiamo Elania Elmore, e una storia che parla praticamente di una partita a scacchi, di Nathan Never che deve andare in questa partita a scacchi a controllare che tutto venga rispettato e i due giocatori seguono le regole, che non si bari, praticamente è una partita a scacchi a livello mondiale diciamo, e invece alla fine c'è un colpo di scena e si scoprirà che uno dei due giocatori in realtà sta barando, quindi anche questa qui è una storia abbastanza noiosa, abbastanza piatta, che non mi ha detto nulla e che sinceramente anche se non pubblicavano era tanto lo stesso. E l'ultima storia invece è quella che mi ha interessato un po' di più, che praticamente riguarda dei vermi, quindi si parla delle terre desolate, delle terre di una parte del mondo di Nathan Never dove è tutto abbandonato, tutto deserto, viene praticamente ritrovato un vermone, una di queste specie di tremors, che stanno tentando di curare, praticamente questo vermone ha fatto una strage, ha fatto una carneficina di persone e Nathan Never è lì per capire il perché questo vermone abbia fatto un casino e alla fine viene fuori che delle persone andando nella tana di questo verme praticamente ha ucciso una cucciolata, cioè questi vermi sono una specie protetta, queste persone sono andate dentro alle grotte, hanno fatto una strage, hanno sparato alle uova così solo per il gusto di. Uno di questi vermi che era nelle uova è riuscito a sopravvivere, è scappato e ha cercato vendetta e ha cominciato a uccidere gente a destra e a manca. Quindi questa storia è particolarmente interessante dal punto di vista animalista, dal punto di vista... cioè parla molto della crudeltà umana, degli abusi che le persone fanno della violenza sugli animali e quindi questa è una storia che invece vi consiglio. Quindi se proprio proprio volete comprare questo magazine la cosa più interessante del magazine è appunto la storia Cologne di Medda e Mari. Quindi io non ve lo consiglio perché comunque costa un bel po', costa 6,30€. Come vi ho detto l'apparato sugli articoli e su quelle cose lì è superato, io lo trovo inutile e le storie sono trascurabilissime e l'ultima è interessante, quindi non vi sento di consigliarvi questo albo solo per questa storiellina che è l'unica che ho trovato... insomma è l'unica che ho trovato leggibile. I disegni sono tutti di ottimo livello, non mi hanno fatto impazzire, Nicola Mari mi piace particolarmente ma a parte lui anche gli altri si sono bravi ma non bastano comunque disegni per tirare su questo albo. E in più neanche la colorazione non mi ha lasciato particolarmente soddisfatto. Quindi un albo che vi sconsiglio, se lo volete prendere così tanto per completezza, per leggervi qualcosa di Natanever perché siete proprio dei fan fan compratelo, ma se dovete scegliere potete lasciarlo benissimo dov'è. Spero che quest'anno passano qualcosa di meglio ma l'anno scorso non mi è piaciuto per niente. Se ti è piaciuto questa recensione mettimi un like, se vuoi lasciarmi i tuoi commenti, se anche tu hai letto il magazine, fammi sapere cosa ne hai pensato, cosa ti è piaciuto e cosa trovi sbagliato magari di quello che non è piaciuto a me o di quello che ho detto io. Non dimenticarti di iscriverti al mio canale e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!